Kia Stonic, piccoli crossover crescono se c'è un segmento che sta vivendo il suo momento di gloria in questi anni. Quello dei B-SUV, i piccoli crossover urbani di segmento B, che piacciono e hanno una maggiore funzionalità rispetto alle compatte di pari categoria. Tutti i brand sono entrati in questo segmento e ora la volta di Kia. Che ha lanciato sul mercato italiano Stonish, TG-COM 24 andata a Reggio Emilia per una prova di un paio d'ore del modello con motorizzazione 1.6 diesel 100 cavalli vapore. Molto carina e completa. Stonica una linea giovane e muscolosa. Merito delle protezioni speciali sotto scocca sia davanti che dietro. In vernice silver, il baby crossover coreano si guida con serenite piacevolezza. Anche Perrac il motore è abbastanza brillante sia in autostrada che nelle stradine di campagna dove Kia ha voluto organizzare il percorso. Giusto per darci l'idea della versatilite d'uso del modello. Si può dire che sia un veicolo rassicurante. Anche Perrac ha soltanto la trazione anteriore. E quindi la guidabilità davvero facile. Da notare i consumi molto contenuti. Segno che il settore dei nuovi motori a gasolio Euro 6 gioca le sue carte sull'efficienza. L'interno ha una vera sorpresa. C'è molto spazio e si intuisce come Kia guardi oltre il segmento B per conquistare P mercato. Possibile scegliere tra tre diverse colorazioni degli interni a centro plancia C un bello. Schermo touch da 7 pollici. Tra le cui funzioni anche quelle per l'integrazione dello smartphone Apple o Android. Bluetooth e comandi audio al volante a chiudere il ventaglio di comfort tecnologico dell'auto. Grande capacità pure il bagagliaio. 352 litri con 5 passeggeri a bordo. Tanti considerata la lunghezza di soli 4. 14 metri. Abbattendo la seconda fila di sedili. Il volume di carico sale a 1. 155 litri. Kia Stonic e vanta di serie la frenata automatica. Il rilevamento della corsia di marcia. La Lerret che invita a fare una pausa dalla guida e il raffinato torque vectoring by braking. Che gestisce al meglio il sottosterzo in curva facilitando il mantenimento della traiettoria. In gamma c'è anche il motore 1. 2 benzina per neopatentati. Un altro turbodiesel da 120 cavalli vapore e un'ibrida a GPL. Il prezzo d'ingresso di 16. 250 euro. Ma la campagna Lenso di questi giorni la bassa a 13. 950 euro. Varie possibilità anche per il noleggio a lungo termine e il finanziamento rateale. E come sempre la garanzia ufficiale Kia di 7 anni.